A noi non preoccupa l'inchiesta, noi siamo consapevoli che abbiamo a che fare con un servizio di efficienza e di eccellenza di professionalità che sanno fare il loro lavoro e a differenza invece di esempi che abbiamo già visto di re-internalizzazioni perché si parla tanto di re-internalizzazioni di servizi come anche di consorsi che possano assolvere questi servizi e su delle re-internalizzazioni che si sono già verificate in Italia abbiamo avuto già dei riscontri poco positivi perché abbiamo anche dichiarazioni di alcuni esponenti politici che fanno credere alla pugnione pubblica che la re-internalizzazione possa essere frutto di chissà quali risparmi. Di fatto così non è perché poi nessuno parla dell'occupazione da rilevare. Tutti si prodigano nel cercare soluzioni nella riscossione ma nessuno parla poi del rilevamento del personale. La riscossione è un servizio a prescindere a un costo. C'è un forte rischio occupazionale che è dettato sia dalle polemiche che leggiamo oggi sui mezzi informazioni in questi giorni e sia dal fatto che in realtà al 30 giugno scadranno tutte le concessioni in essere e per cui c'è un ragionamento su una delega fiscale del governo e i lavoratori sono fortemente preoccupati del loro posto di lavoro. Quindi a questo punto cosa proponete? Quello che noi proponete innanzitutto dobbiamo intanto aspettare quello che sta succedendo con la delega fiscale che è in discussione. I tempi sono strettissimi. Dopodiché per quello che riguarda il livello locale noi dobbiamo a questo punto avere un confronto anche con le amministrazioni perché vorremmo capire se ci saranno queste concessioni che non vengono confermate se qualcuno si sta preoccupando dei lavoratori che perderanno i posti di lavoro. Stiamo parlando probabilmente di circa 100 lavoratori che sono interessati solo dal comune di Pescara per cui è un problema molto importante.